Ciao 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 Grazie grazie di essere gu come oggi oggi voglio fare un video diverso perchè diverso? lo vedete? perchè questo video è in verticale perchè ho deciso di fare questo video in verticale perchè io trovo che i video smr a tutto schermo siano molto molto più efficaci a livello proprio di privi di livello visivo l'unico difetto è che su youtube non si possono leggere i commenti c'è un po' più scomodo quindi e oggi voglio provare a fare un po' di trigger appunto in questa modalità cioè il video in sé sarà semplice è un pochino un esperimento e secondo me ve l'ho proposto anche su youtube non mi ricordo ma su instagram ho avuto veramente tantissimo tantissimo entusiasmo come riguardo non so bene se guardare qui qui o qui perchè sto registrando con l'ipo quindi perdonatemi se non guardo esattamente guarderò tipo in mezzo e appoggio i microfoni e so che sentirete un pochino di rumore di tessuto spero non vi dia fastidio ah si ho cambiato colori di capelli che sono anche un pochino tagliati e sono abbinata allo sfondo tutto abbinato spero che sia soddisfacente come cosa ho anche il pennello abbinato fate voi e ovviamente questo colore si scaricherà pian piano già nel prossimo video li vedete più scarichi però dopo i capelli tenderanno un grigino freddo stupendo io amo questo colore tantissimo non so preferisco questo rosa però non vedevo l'ora di rifarlo diciamo anche il pennello è è abbinato allora io comincerei con un banalissimo via i pensieri e voi dovete semplicemente mettere i pensieri che volete di cui volete liberarvi in cima davanti alla fila fateli saltare alla fila i vostri pensieri e metteteli davanti 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 in modo che io possa prenderli con facilità 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 quindi lo farò tre volte prendo 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 amentos una dosale boro prendo plak plak prendo tiro e sac 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 scredalo polpenzo e soffio via e vanno via un'ultima volta plak 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 scredalo via 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 adesso facciamo un po' di brushing e poi farò una ripresa diciamo alle mani e sfoglieremo un libro di cucina vi farò vedere alcune cose insomma farò un pochino di visual trigger come se stessi facendo delle storie perché so che molti di voi piacciono le mie storie su instagram mi trovate come chiara.sml perché vi piacciono appunto la visione verticale e li trovate anche interessanti grazie quindi quindi neancheci qua ah facciamo anche un po' di tracing vediamo la farò originale a a a a a s m f e eeees pennello e lo faccio anche con questa parte chiara spero di riprenderlo tutto ho un'idea a s m et rilassati chiudintegr chiudeglio chiudegli occhi chiudegli occhi chiudegli occhi chiudegli occhi Come? Visto che questo è un video sperimentale, mi raccomando, fatemi sapere in modo chiaro cosa ne pensate. Mi piace, non mi piace, commenti, parlatemi, davvero interagite con me il più possibile per farmi capire cosa ne pensate, per più interagite, più capisco cosa vi può piacere. Se questa tipologia vi piace, voi non mettete mi piace, non commentate, tanti di voi fanno così, io non la farò più, quindi fate sentire, fate sentire, mi raccomando. Eccoci qua. Quindi facciamo ancora un pochino di brushing e se vi piacerà potrei fare anche dei roll play, così, insomma. Ditemi, datemi delle idee, io vi ascolto, vi leggo, sempre. Questo video però sarà un po' corto sicuramente perché sto registrando alle sette di sera e è domenica però c'è traffico. Io sto sfruttando la luce naturale che secondo me è molto più bella, però questo non filtra, non mi permetto di chiedere le serrante e a tutte le ragioni del traffico. Però credetemi, è l'unico momento libero perché vi dico solo che oggi è domenica 20, domenica 20, domenica 21 e chi deve intendere, intenda a livello proprio nazionale di calcio. Quindi ho paura che se io arrivassi anche solo di 20 minuti, questo video non potrebbe registrare fino tipo a mezzanotte, già per stasera la live. Non lo so come sarò messa, spero che non ci saranno troppi classoni in giro, comunque vada. Quindi speriamo. Io comincio la live alle 23, quindi io comincio la live sulla piattaforma di ore alle 23, quindi spero che a quell'ora si situa, si sia un po' calmato. Passiamo un po' su. Passiamo un pochino agli altri video, altre che real, tipo touching, queste cose qui al tracing. Insomma, avete capito? Ok, allora adesso andiamo a sfogliare. Mi fa stranissimo girare un video per YouTube così, però andiamo a fare un pochino di tracing. Questo me l'ha regalato uno o una di voi, non lo so, dalla wishlist e ringrazio chiunque sia stato perché l'uomo. Grazie davvero. Grazie davvero a chi me l'ha regalato. Andiamo a fare un pochino di tracing. Mi dispiace tantissimo per il traffico, davvero. Diciamo che oggi è un'eccezione. Comida Comida Ne Si C 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 주 mi sembra che io stia disegnando con un pastello stranissimo Snacks, tacos, tortas, tamales e sals andiamo a sfogliarlo tra l'altro è bellissimo perchè ti racconta tutte le storie Molotes Quasi nessuno è vegano o vegetariano di questi piatti però sto diventando abbastanza brava a veganizzare le cose in realtà per certe cose è molto semplice perchè il pollo vegano c'è immaginato il hamburger ad esempio qui cosa c'è? questo sarei tipo tofu immaginato vegetale ad esempio e quanto è bello vi giuro io adoro sfogliare libri di cucina mi rilassa da matti e poi è super colorato adoro facciamo questo? aspettate vorrei farlo sulla mia mano ma non ci riesco quanto è rilassante quanto è rilassante io impazzisco per queste cose spero impazzisci anche voi come me qui ho la mia nintendo e presto farò un video su ecco appunto Animal Crossing e spero sarà di vostro gradimento quando lo farò adesso vediamo vi mostro un pochino di roba vado in giro visto che vi rilassa tanto facciamo anche un po' di coccole adami ma si amore e amore la mia piccolina la mia cucciola bella dolce è il mio cuorecino il mio cuorecino sei veramente il mio cuorecino la mia bimba dolce 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 piccolina una succetta qui è dove dorme tutte le notti di fianco a noi qui c'è il piumino ok mi dispiace davvero che il video sia così corto ma è anche un pochino improvvisato io però spero che abbia dato un po' di privilegi essendo in verticale magari la prossima volta potrei fare uno show in tale così in cui proprio riprendo dal cellulare tipo vi faccio vedere i miei gioielli o i miei trucchi di te qui purtroppo non ho praticamente niente qui con me ho solo i miei smalti ma fanno un casino travento quindi evito però mi chiedete spessissimo che smalti utilizzo però comunque come vedete durano abbastanza ritoccando in una settimana io utilizzo principalmente due marche abbastanza low cost vorrei cominciare a utilizzare marche anche un po' più eco friendly sicuramente però per ora mi sento di consigliarvi queste due queste due sono Essence Kikwe Essence questi qui questo colore quello che indosso è il 73 Peach Please e questi gel negli polish dell'essence sono validissimi perchè sono un po' spessi ci mettono un pochino ad asciugarsi ne faccio due o addirittura tre strati ci metti un po' quattro di una puntata di Grey's Anatomy che bella lunga però durano veramente tanto e poi gli altri che mi sento di consigliare sono questi della Kikwe Power Pro Nail Aquare Nail Aquare questo in particolare quello che ho usato anche nel mio matrimonio per farvi capire quanto mi piace è il numero 104 non capisco se sia 104 o 301 non lo so non so il colore c'è scritto da qualche parte in ogni caso validissimo anche questo 2 bar 3 strati si asciuga un pochino più velocemente e avete apprezzato tanto anche quando mi sono messa questo che è della vecchia collezione della Essence ma vedete col vecchio pack ma penso ci sia anche nella collezione nuova questo è il colore 66 bellissimo sempre di questi nail the gel nail polish validissimi validissimi e soprattutto costa un po' quindi ne potete prendere anche 2 o 3 non esagerate non comprate cose che non vi servono però insomma eccoci bene detto questo questi sono di solito quelli che mi durano di più uso anche quelli della pupa che sono molto belli ma mi durano un pochino di meno sulla mia unghia ovviamente io non faccio chissà che cosa cioè faccio sport ma non non mi imboccio le mani non non le uso troppissimo quindi oppure ad esempio non non sto lì sempre non lavo i piatti a mano queste cose qui o difficilmente lavo i vestiti a mano che sono cose che magari possono correre un pochino lo smastro però comunque mi sembra una vita normale mi durano abbastanza e spero possa servire t'aiuto perché io non faccio né mai gel né semi permanente perché trovo a rovinire le unghie non le ho mai fatte ma tutti mi dicono che comunque le unghie vanno un pochino ehm diciamo smaltate limate sotto le mie unghie sono forti naturalmente e no vanno bene così mi piacciono così voglio poterle cambiare quando voglio quindi grazie grazie di aver guardato questo video io non lo so spero davvero vi piacerà e io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 si è aggiunto Allora Abassar Abassar Le frutti Elcorar 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 Una buona 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 notte Soñitor Good night Sweet dreams Buenas noches Dulces sueños Buon noi Vete Show your hand Catena Tu le canostri Le canostri le canostri le canostri le canostri le canostri Buonanotte Mie Mie crepe con il cioccolato Con le crepe con il cioccolato Un bacione Come sempre Vi voglio bene Ti voglio bene Ti mando un abbraccio Noi ti auguro il meglio Spero che questa settimana sarà La migliore della tua vita Un bacione E che rispera cauza Godine Ci sudare la fortuna E che riesca